che non c'è e di quelli che fa sobbalzare sulla sedia. È la prima volta nella storia della Repubblica che avvengono delle assunzioni statali senza una graduatoria pubblica. Impossibile per gli aventi diritto confrontare gli elenchi e i punteggi e controllare la correttezza del procedimento. Per questo vi siete permessi di dire che le assunzioni erano a prova di ricorso. Perché fate delle assunzioni al buio e alla richiesta di trasparenza, la Ministra risponde fidatevi di noi. Voi avete violato qualsiasi normativa sulla trasparenza, meritereste l'anticorruzione al Ministero perché siete in difetto e le graduatorie dovevano essere pubbliche prima delle stabilizzazioni e le graduatorie degli asperanti alle assunzioni si formalizzano prima dei contratti. Se ci sono stati degli errori, come potranno i docenti far valere la giustizia. Vi chiediamo quindi la pubblicazione immediata delle graduatorie per l'assunzione su fase B e fase C. Grazie. Il sottosegretario per l'istruzione all'Università e alla ricerca, Gabriele Toccafondi, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente. Da quest'anno, grazie alla legge 107, lo Stato ha la facoltà di potenziare il sistema scolastico, incrementando di ben 55.258 posti l'organico docente e assumendo in ruolo, su questi nuovi posti e sugli altri liberi da anni, 102.734 docenti, 66.107 in più rispetto a quanti se ne sarebbero potuti assumere a legislazione previgente. La gran parte di queste assunzioni sarà effettuata quest'anno, le ultime entro novembre, quando terminerà la cosiddetta fase C del piano straordinario di assunzioni. Alcuni posti potranno invece essere occupati solo l'anno 21, grazie al concorso previsto, sempre dalla legge 107. Attualmente, infatti, vi sono classi di concorso, e come sappiamo su tutti matematica, in cui il numero di docenti iscritti nelle gradatorie utili per le assunzioni è inferiore al numero dei posti disponibili. È quindi ineludibile attendere il nuovo concorso per coprire questi posti in modo stabile. Quanto alle fasi 0, A e B del piano assunzionale, sono regolarmente terminate nei tempi previsti, ovvero 8 agosto per la fase 0 e la fase A e 2 settembre per quanto riguarda la fase B. Le assunzioni effettuate nelle fasi 0 ed A hanno seguito le regole già usate da molti anni e quindi ben conosciute da tutti i docenti iscritti nelle varie gradatorie coinvolte. I posti rimasti vacanti al termine della fase A sono stati tutti e soli quelli per i quali non vi erano più aventi diritto, in base alla legislazione previgente, essendo esaurite le gradatorie delle relative province, GAE o regioni concorso. La copertura di tali posti nella fase B è avvenuta quindi sulla base di nuove regole introdotte dalla legge 107. A questo riguardo, dal combinato disposto della medesima legge 107 e delle leggi previgenti, se ne rileva che gli iscritti nelle gradatorie del concorso procedono gli iscritti nelle GAE, gli iscritti nella prima fase delle GAE precedano i colleghi iscritti nella seconda e così via assieme alla quarta fascia. A parità di graduatoria e fascia venga prima il docente con maggiore punteggio, indipendentemente dalla provenienza geografica, a parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla legge. I quattro criteri sopra elencati determinano un ordine tra i partecipanti al piano assunzionale. Ricordando che la partecipazione alla fase B e alla successiva fase C è stata volontaria, il Ministero per individuare il posto da assegnare a ciascuno dei docenti partecipanti alla fase B ha utilizzato l'unico metodo compatibile con i vincoli sopra illustrati. Per descriverlo è opportuno ricorrere ad una esemplificazione. Si è dia il caso dell'aspirante docente iscritto nelle GAE, classe di concorso A043-A050, che esprime quale prima preferenza la provincia di Bergamo, quale seconda Lodi e così via sino alla centesima preferenza, egli è iscritto nelle GAE di provenienza con un punteggio nell'A050 superiore a quello dell'A043. Nell'A043 i posti disponibili a Bergamo sono 37, a Lodi solo 15. Nell'A050 i posti sono rispettivamente 16 e 1. In questa situazione l'aspirante docente trova posto nella prima provincia secondo il suo individuale ordine di preferenza, cioè gli viene proposto uno dei 37 posti disponibili a Bergamo nell'A043 oppure uno dei 16 disponibili nell'A050. Nel caso in cui tra gli aspiranti che lo precedano in ciascuna classe di concorso, secondo l'ordine definitivo, ve ne siano al massimo 36 nella A043 oppure 15 nella A050 che hanno ottenuto un posto a Bergamo. Nel caso in cui vi sia posto a Bergamo per l'aspirante docente sia nell'A043 che nell'A050, il posto offerto sarà dell'A050, cioè la classe di concorso in cui vanta maggior punteggio. Nel caso in cui tutti i posti disponibili a Bergamo, sia per la classe 043 che per quella 050, siano offerti a docenti partecipanti sul piano assunzionale che precedono l'aspirante docente nell'ordine previsto, allora egli potrà ottenere un posto all'Odi, sua seconda preferenza, perché tra gli aspiranti che lo precedono in ciascuna classe di concorso, secondo l'ordine definitivo, ve ne siano al massimo 14 nella A043 oppure nessuno nella A050 che hanno ottenuto un posto all'Odi. Nel caso in cui tutti i posti disponibili a Bergamo e all'Odi, sia per la classe A043 che per la 050, siano offerti a docenti partecipanti al piano assunzionale che procedono l'aspirante docente nell'ordine previsto, si procede con la terza preferenza espressa, dello stesso e poi con la quarta, eccetera, con lo stesso metodo sopraillustrato. Da tanto ne discende che tutti i docenti hanno ricevuto una proposta in fase B sulla prima provincia possibile, secondo l'ordine di preferenza indicato, tenuto conto delle preferenze espresse dai colleghi che li procedono per punteggio. Ogni docente partecipante alla fase B potrà verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione consultando gli elenchi del personale destinatario di una proposta di assunzione nell'ambito della fase B. A tal fine il MIUR è inviato una nota a tutti i dirigenti degli uffici scolastici regionali, invitandoli ad ottemperare alla pubblicazione degli elenchi degli assunti per la propria regione di competenza. Detti elenchi, reperibili e consultabili sui siti delle direzioni regionali e degli uffici provinciali del MIUR, sono esaustivi poiché specificano provincia proposta per l'assunzione, ordine della scuola in cui è proposta l'assunzione, tipologia di posto, posto comune o di sostegno, classe di concorso, area disciplinare, tipologia di graduatoria, provinciale d'ausoramento o merito di concorso, cognome e nome, data di nascita, fascia, conseguimento o meno del titolo di sostegno, punteggio eventuale, un possesso di un titolo di preferenza di ciascun destinatario, delle nomine effettuate nella fase B del piano. La quarta ed ultima fase del piano di immissione in ruolo, cosiddetta fase C, avverrà dopo che le istituzioni scolastiche avranno comunicato agli uffici scolastici regionali il fabbisogno dei docenti da utilizzare nell'ambito dell'organico aggiuntivo previsto dalla tabella 1 della 107 e dopo che i predetti uffici avranno determinato la quota di organiche ospettate a ciascuna istituzione scolastica della Regione. Si ritiene che dette operazioni saranno concluse, come anticipato, entro la fine del prossimo mese di novembre. Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante di conoscere l'importo di eventuali risparmi che potrebbero determinarsi nell'esecuzione del piano assunzionale, si sottolinea che l'ammontare dei risparmi effettivamente realizzati potrà essere determinato solo a consuntivo, a seguito di una verifica da effettuare congiuntamente tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia. I risparmi saranno integralmente destinati all'istruzione scolastica, per le finalità previste dalla legge 107. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Luigi Gallo ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente. Non mi ritengo soddisfatto perché resto sempre un po' sconcertato da Sottosegretario Toccafondi quando glissa sui numeri. Perché partiamo dalle supplenze. Lei resta sostanzialmente silente, non ci dà delle stime né dei dati. I sindacati parlano di 60.000 e 80.000 supplenze annuali per quest'anno e 30.000 supplenze per insegnanti di sostegno, tra l'altro non specializzati perché non abbiamo adeguati insegnanti di sostegno con la specializzazione e l'abilitazione. Quindi nel terzo millennio c'è una programmazione zero da parte di un Ministero strategico per il Paese come l'istruzione. ma se anche quindi tutte le vostre promesse...